Il passato è nelle tue mani, Abstergo. Ciao, iniziato. Da poco la ricerca storica Abstergo ha lanciato nuovi progetti a Londra. Sappiamo entrambi che se l'Abstergo si muove, i Templari tramano qualcosa. Pensiamo che siano sulle tracce di un nuovo frutto dell'Eden. A Londra lo stiamo già cercando. Vescovo, Gekko, Baby, Fry sono gemelli. Non è grandioso? Parli del diavolo. Usa la videocamera, Becky. Ho l'immagine. Hai un tempo previsto? Sto inviando. È tanta roba. Metterò subito gli iniziati al lavoro. Sei strano con un'arma. Ora metto un piccolo virus e poi vedrai anche tu. Ho qualcosa. Isabella Ardant ha un incontro qui fra poche ore. Non so con chi. Davvero non sai con chi, Rebecca. Se solo lo volessi lo potresti scoprire. Calmatevi. La missione è trovare dati su un frutto dell'Eden a Londra. Fatto. E ora voglio proprio provare il nuovo kit. Detesto quando prendono iniziative. Bene. Non resta che fare un bel respiro e continuare. Dovrai cercare il frutto dell'Eden nelle vite di Jacob e Evie Fry. Due gemelli assassini della Londra vittoriana. Il primo set di ricordi genetici è pronto. Buon lavoro. Fratello George, è proprio come temevo. Londra è perduta. Ho scritto tre volte implorando aiuto. Tre volte ho ricevuto solo silenzio. Ma scrivo ancora. Perché sono disperato. E non ho alternative. Perché. La città di Londra ha bisogno di voi. Mi dirai che è un rischio enorme. Che non è tempo di agire. Mi consiglierai pazienza. Ma mentre indugiamo, i Templari diventano più forti. Il loro gran maestro è così spietato e abile da far impallidire niente meno che il fu Reginald Birch. Si chiama Crawford Starric e intende controllare il mondo. Tira i fili di ogni strato della società. Nessuna industria sfugge alla stretta della sua morsa. Di giorno operano i suoi mercanti corrotti e politici senza scrupoli. Di notte, una banda pericolosa nota come Blighters semina il terrore tra gli abitanti. Il suo veleno contamina ogni affare e sfrutta tutti. O con l'inganno o con la forza. Ho paura che il nostro nemico voglia arrivare ben più in alto. E così, a ben vedere, e lo dico con orrore, posso riassumere le mire di Crawford Starric in un mondo. Ai regni e ai continenti ancora liberi. Ancora per poco. Perché lui sa bene come ho scritto più e più volte. che chi controlla Londra controlla il mondo. Il ferro parte da qui. Il templare che lo gestisce è Rupert Ferris. Nostro primo bersaglio. Il secondo è Sir David Brewster. Ha per le mani qualcosa che potrebbe farci perdere la guerra. Voi pensate di farcela? Che domande. Oh, giusto. Chiedo scusa. Signore e signori, i temibili gemelli Fry. Solo questa sera al Covent Garden. George è sul serio. Ho studiato la pianta del laboratorio e conosco ogni uscita. E io ho tutto ciò che mi serve. Proprio qui. Forcerò i tuoi saluti a Ferris. A più tardi, George. Il treno ci chiama. Jacob! Vivi! E il credo mi guidi, vagabondi! Cover-uomo vive nella paura. Sono stati anni duri. Vivi, Fry. Questa da dove ti viene? Piantala subito, Jacob. Rivertiti. Non morire. Non morire. Per quanto ancora intende continuare? Sta disturbando gli altri operai. Fatelo tacere e aggiustate quella macchina. Voglio del laudano per il mal di testa. Arrivo subito. Chiuso. Cosa credi di fare? Ora basta! Finiamo nei guai! Non si entra né si esce. A meno di problemi. Fermo le macchine. La porta si apre e posso arrivare a Ferris. Un lavoretto al volo. Per noi è finita! Vanno riparate! Presto! O arriveranno le guardie! Ferris ci farà impiccare! Che cosa succede? Chi di voi è il responsabile? Noi non... No! Stai in vero quando urla, no? Tu che sei? Un ispettore sanitario. Ferris... Sto arrivando. Signor Ferris! C'è un ragazzo che dovrebbe essere medicato in farmacia. Bene. Decurtategli la paga. Sì, signore. Arriverà la resa dei conti, signor Ferris. È finita. Oh! Cosa credi di aver ottenuto, ragazzo? Hai allentato un bullone della macchina di Starric. Un grande bullone. Ma non basta. Il gran maestro cadrà. Voi assassini potete anche accerchiare Londra interamente. Ma la macchina che noi abbiamo creato opera da centinaia di anni. E durerà per millenni. La macchina è la città stessa. Noi vi strapperemo Londra dalle mani. Da Croydon. Vivete nell'ombra. Come codardi. Io ne dubito. Siete arrabbiati, amici? Siete arrabbiati. Siete arrabbiati. Oh no. Bene, questa era una fermata imprevista. La prossima volta andrò a piedi. Cantiere, posti di guardia, laboratorio di Brewster. Ecco dov'è ora il frutto dell'Eden. Tutto pronto. Ora stacco la locomotiva per creare un diversivo. Ma dov'è? Dov'è il carico di Brewster? Codardo! Seguitemi lungo i binari. Tu resta qui, a controllare. Va bene, urlerò se ci sono guai. Ho bisogno di altre due settimane col dispositivo. Le vostre discutibili pratiche stanno attirando troppe attenzioni. Avete avuto tutto il tempo per ottenere risultati, Sir David. Io non credevo di dovermi esibire come se fossi un Cocker Spaniel. Dovreste ricordarvi il vostro debito con l'ordine. Miss Thorn, voi mi trattate come se fossi un cane. Sir David, tornerò qui domani. E se non avrete svelato il segreto di quell'oggetto, altro che cani. Vi darò impasto ai lupi. Buona giornata. Sono venuto a fare un giro turistico, signori. Chi ti ha mandato? È una spia di Green. Prima interrogate quell'uomo. Poi portatelo al laboratorio. Mi dispiace, ma devo ottenermi al piano. Oh, grazie mille. Era proprio in grossi guai quando... Beh, insomma, mi hai salvato. Dov'è il laboratorio? Slegami e poi ne parliamo, mia cara. Il tempo stringe. Dimmelo ora. È sottoterra. Serve una chiave. Una guardia ha preso la mia, purtroppo. Grazie. Ehi, non mi sleghi? Sei entrato. Di certo riuscirai anche a uscire. Tranquilla, mia cara. Ricordo ancora qualche trucco dai tempi del circo. Perfetto. Eccola qui. L'entrata al laboratorio. Si riparte. Il frutto dell'Eden. Aumentate la corrente. Ma diventerà instabile. Avete sentito, Miss Thorne? Voglio risultati. Ora! È tempo di lasciare questo mondo, Sir Brewster. Ma resta così tanto da scoprire. Non abbiate paura. Non ne ho. Dio mi accoglierà. Continuerò il vostro esperimento. Non potete fermare, Starric. Miss Thorne ha già trovato un altro frutto dell'Eden, ben più potente dell'ultimo. Prenderò anche quello. Combattiamo... Per cose che siamo destinati a perdere. C'è la nostra natura. Ci è mancato poco. Ci sono quasi. Su, forza! Forza! Cos'era quel botto? Quale botto? Ivi? Il frutto dell'Eden è esploso insieme al laboratorio. Il blocco magico di metallo iperbolico. Ma pensa! Solo perché tu non dai valore ai frutti non vuoi... Tutto secondo i piani. Giusto? Una piccola complicazione. Quanto piccola? È esploso tutto. Jacob! Hai fatto deragliare un treno. Oh! È stato lui! Vero? Il treno è deragliato e per caso ero a bordo. Il bersaglio è morto. Anche Brewster è morto. Quindi, tutto sommato, missione riuscita, nonostante voi due. Che mi dici di Londra? Londra cosa? Stiamo solo perdendo tempo qui. Sai bene quanto me che Londra è rimasta nelle mani dei Templari per gli ultimi cento anni. Sono ancora troppo forti! Pazienta. Ma i Templari hanno un nuovo frutto dell'Eden. Sir David è morto. Non sanno come utilizzarlo. È il consiglio che ci guiderà. Anche vostro padre sarebbe stato d'accordo. Bene, ci rivedremo a Crowley. Pazienta, Evie. Il dolce suono delle occasioni andate perdute. Che cosa ci frena? Londra aspetta di essere liberata. Al diavolo, Crowley! Papà avrebbe voluto che noi... Oh, papà! Puoi sempre seguire le sue urmi a Londra. Liberando gli abitanti di una città in mano a Templari. Sai... Jacob Fry... Potresti avere ragione. Allora si va? Sì. Andiamo. Verso Londra. Lo so, lo so. Era solo un assaggio dell'ultima acquisizione dell'Abstergo. Ma vediamo come stanno Sean e Rebecca. Per me attaccare un Templare è un errore. Chiama il dottor Grammatica. Ah, forza. Isabelle! Che bella sorpresa! I nostri amici presto verranno qui a cercare il manufatto. Appena verrà trovato, l'avviserò. Ottimo! Non vedo l'ora! Stronzo. Sono le persone come te che rovinano la fama degli storici. Temo di non avere tempo per voi oggi, signor Hastings. Grazie per avermi facilitato il lavoro. Oh, merda. Sembra cattivo. Signor Berg, agente da costa, occupatevene voi. Avanti! Uccideteli! Dovevano solo aspettare che esaminassi i dati. La loro imprudenza ha messo l'intera operazione a rischio. Sincronizza i ricordi di Jacob e Evie. Devi trovare qualcosa che ci dia un vantaggio. Il tempo stringe e noi stiamo rischiando veramente grosso. Buon lavoro. Mai vista così tanta gente tutta insieme. Le brulicanti vie di Londra. Proprio come diceva papà. Ora cerchiamo Henry Green e pensiamo a un piano per colpire i templari. Chi è questo Green? L'assassino che veglia su Londra. Non mi hai ascoltato le prime tre volte? Ascoltato cosa? Ehi, attento! Scusate, signori. Ehi! Torna subito qui, piccolo ladro! Fermo! Dov'è la bottega del signor Green? Era segnata sulla mappa di papà. Due assassini. Stessa altezza. Una femmina e un maschio. Vent'anni. E un sorrisino diabolico. Siete i gemelli frai. E tu sei? Henry Green. Al vostro servizio. Mi è dispiaciuto molto per vostro padre. Grazie. Cosa puoi dirci di Crawford Starric? Dunque il consiglio vuole notizie. Londra va liberata. Offriremo un futuro migliore alla sua gente. Beh, grazie al cielo il consiglio ha capito e vi ha mandati qui. Sì. Grazie al cielo. Purtroppo, devo darvi pessime notizie. Oggi Starric è al comando della più sofisticata rete di Templari del mondo occidentale. Classi sociali, quartieri, bande, industrie. In pratica, controlla tutta Londra. Mi sono sempre visto come un capo. Severo? Ma giusto. Indosseremo uniformi. Riunirò tutti quelli che sono stati privati dei loro diritti sotto un solo nome. Esatto, Evie. Li guideremo verso la libertà. Oh, come quando hai guidato nel fiume quei giocatori di carte della taverna. Era diverso, mi avevano battuto. Adesso mi è chiaro. Noi ci chiameremo i Rooks. Non mi sembra una grande idea. Hai un piano migliore? Trovare il frutto del nede. Bene, lasciate che vi mostri la zona. D'accordo? Guardate cosa ha fatto Starric alla città. Whitechapel è un covo di criminali. Lavoro minorile, imparba alle leggi. Una banda chiamata Blighters controlla le strade. E Templari che manovrano dietro le quinte. Come in tutti i quartieri. Dobbiamo restituire questa città alla gente che l'ha costruita. Libereremo Londra da Starric. Hai la mia parola. E i miei Rooks? Evie, il tuo ardore mi consola. Venite. Torniamo alla bottega, così potrò aggiornarvi anche sul resto. Che razza di città! Nessuno guarda dove cammina. Sì, l'ho notato. Dannato, Trood. So già che non lo finirò mai. Solo il cielo sa dove finiranno quelle parole. Bene, ora dovrò riscrivere tutto. Se vi andassi di ascoltare qualche storia, mi troverete dove il pancio è caldo e gli animi sono bollenti. Addio. Che tipo bizzarro. Quello Jacob era Charles Dickens. Conosce tutto e tutti in questa città. Se io fossi in te, terrei conto di questa conoscenza. La banda di Keilock è qui. Non devono seguirmi. Ci pensiamo noi. Tenete, potrebbero servirvi. Oh bello, spero. La mia carrozza è vicina. Usatela per levarmeli di torno. Ci rivediamo alla bottega. Li avete depistati? Non ci siamo limitati a questo. Chi è questa gente? Negli anni ho stabilito una rete di contatti qui in città. Splendido. Ci serve aiuto per... Per cosa? Sottrarremo le bande di Starric al suo controllo. Devi puntare più in alto. Starric ha amici in ogni classe sociale. Bisogna sfidarlo. Capisco cosa intendi. Ci servono i Rooks. Non fonderai una banda di nome Rooks. Credo di avere avuto un'idea anch'io. La polizia deve chiudere un occhio sulle nostre attività. Abbiamo un amico, il sergente Aberline. Pare sia un mago del trevestimento. E poi i mocciosi. E i mocciosi. Esatto. I bambini sono ottime spie. Clara O'Day. Furba come una volpe. Infine, devi tenere a mente che Starric non agisce da solo. Ci sono capi in ogni quartiere. Li incontrerai presto. Non temeri. Rexford Keylock. Capace di svanire nel nulla in un batter d'ali. Facciamo svanire sul serio? Direi di sì. Un momento. Un bersaglio che può interessarvi. È dura là fuori. State attenti. Non preoccuparti per me, Grini. So gestire i criminali. Non vedo il signor Aberline. Beh, peccato. Ehi, potrei sapere un paio di cosette sullo splendido gentiluomo di cui stavate parlando? Ma cosa... Diamine, cerchi di farmi scoprire. Cosa? Sergente Aberline, al vostro servizio. E voi invece dovete essere i gemelli frai. Credevamo che fossi un poliziotto. E io credevo che tu fossi discreto. Henry dice che potresti farci passare inosservati. Sì, funzionerà così. Io vi darò i nomi dei membri delle bande. E voi li consegnerete a me in silenzio. Oh, faremo più silenzio di una vecchia. Una vecchia baffuta che somiglia tanto a un poliziotto. Dove ci troviamo? Finalmente ci incontriamo. Questo è Babylon Alley. Il nostro compito qui è conoscere le strade e offrire ai bambini l'opportunità di decidere il loro destino. Clara, il signor Green dice che potremmo collaborare. Sì, vi aiuteremo, in cambio di un piccolo favore. Certo, ovvio. Avete già preso quasi tutti i miei soldi. Chiedeteci anche un piccolo favore. Ci sono molte fabbriche qui in città in cui lavorano quasi solo bambini. I bambini lavorano per molte ore. La paga è scarsa e spesso non sono nemmeno liberi di uscire. Soffrono molto. Dovete salvarli. Un piccolo favore. In cambio, vi offriamo informazioni. Sembra che ne abbiate un gran bisogno. Aspetta un momento. Ho un appuntamento adesso. Cosa ne dite? Accettiamo. Lavoreremo bene insieme. Ah, eccovi qui. Ciò che vi separa da Whitechapel è il cattivo di questa zona. Kaylock ti sfida per il territorio a uno scontro fra bande. Incauto? Tieni. Suppongo che ne farai un uso migliore di me. Un regalo per me, Grini. Sì, è già arrivato Natale. Raduna i tuoi. Il signor Rexford Kaylock ha accettato e vi attende alla stazione di Whitechapel. Ha puntato il treno sullo scontro. Ah, eccomi qui. Sembra che sia rotto. Ah beh. Almeno abbiamo un treno. Non va poi tanto male. Ora Kaylock è morto. Whitechapel non sarà più nelle mani dei Blighters. Ora avete l'occasione di unirvi ai nostri ranghi. Accogliamo chiunque voglia opporsi a Starry che ha i suoi sgherri. Benvenuto nei Roots. Ah, diamine. Preferirei buttarmi sui binari che guidare Berta un altro miglio per quel maledetto bastardo. Kaylock? È rimasto a piedi. Bene. Ciao, signori belli. E chi sarebbe qui? Sono Ivy Fry, mio fratello, Jacob Fry. Piacere. Sono Agnes McBean. Piacere. Stavo per avere una promozione e ora sono senza lavoro. Lavora per noi? Ma fatemi il favore. Pagate noccioline? Beh, se le preferisci ai soldi veri. Allora vi presento Agnes e Berta, dama e locomotiva al vostro totale servizio. Sarà nell'altro vagone. Un covo su rotaie. Che eccellente idea. Sì, è andato tutto alla grande. Ora, vorrei seguire una traccia per... Jacob. Sì, serio. Non mi muovo di qui finché non lo aggiusto. Forse conosco qualcuno che può aiutarti. Ah, nero certo, Grini. Oh, al diavolo. Alec, che è successo? Non ho intercettato altro che inutile propaganda sull'Elysirle nativo e roba simile. Per la miseria. Se il monopolio di Starric continua... Alec, ti chiedo scusa. Questi sono i miei amici. Evie Fry e suo fratello, Jacob. Oh. Alexander, Graham Bell. linguista, inventore e tecnico provetto. Alec, ho un piccolo favore da chiederti. Puoi aggiustare questo. Ah, sembra che il metallo sia incrinato. Oh, si rompe. Eh sì, avrei potuto usare uno di questi per i miei fusibili in cima al Big Ben. Alec sta installando il nuovo telegrafo della nostra Free Press Association. Per combattere la Starric Telegraph Company. Ora, se riesco ad aggiustare i fusibili delle linee indipendenti sul Big Ben, Starric sarà indebolito. Solo che al momento ha un certo impedimento. Eh, ho fatto. Ho rimosso il meccanismo così funziona con il tuo barciale. Lo proverò immediatamente. Jacob, aspetta. Alec, ti aiuterò io con quei fusibili. Oh, non ho alcuna remora ad accettare, mia cara. Eh, usiamo la mia carrozza. Dovresti impugnare tu le redini, però. Lo prendo io. Posso aiutarti io. Grazie mille, mia cara. Ora potrò proseguire nell'installazione della nuova linea. Se posso fare altro per aiutarti. Ma certo. Vieni a trovarmi. Oh, stavo giocando con questo e ho trascritto la formula per te. Non è perfetta, ma... diamine, fai il suo dovere. Forse persino troppo! Ah, Evie! Stavo mostrando a Jacob i primi messaggi giunti con le linee aggiustate. Oh, e puoi tenere quel lanciacorda. ne ho pronto un altro per tuo fratello. Ottimo lavoro. Grazie, di nuovo. È stato un vero piacere. Ora possiamo difendere il principio dell'informazione imparziale e libera. Libera va bene, ma libera e concisa è molto meglio. Jacob, sempre caustico. E dopo questa ce ne andiamo. Oh, buona fortuna entrambi. Venite da me quando volete. Ora che abbiamo finito con il diversivo. Chi è? Oh, intendi che non lo sai? Che bel treno avete. Miss McBean me ne stava appunto parlando. Sono Ned. Piacere. Non vi ruberò altro tempo. Se volete saperne di più sul miglior sistema di trasporti al mondo mi troverete a questo indirizzo. Adesso torniamo a cercare il frutto dell'Eden. Dobbiamo assolutamente strappare Londra a Starric. Chi sono i bersagli? Non è ancora il momento. Non sono venuto qui a cercare Ninnoli. Prima impara i passi e poi comincia a ballare. Oh, vuoi ripartire da dove ha lasciato papà? Qualcuno deve farlo. Evie, trovare il manufatto dei precursori ci aiuterà a svelare i piani dei Templari. Jacob, ho informazioni sui soci di Starric che potrebbero esserti utili. Vieni. L'Elisir Lenitivo è l'unica medicina disponibile all'Hambet. Reca il nome del Gran Maestro dei Templari. È tempo di una visita dal medico. Non penso che qualcuno possa guarirti. Tu che hai intenzione di fare, mia cara sorellina? Lo sai benissimo, trovare il frutto dell'Eden. Continua pure a studiare. Io vado a uccidere Templari. Per voi l'Elisir Lenitivo di Starric! Non beve altro! Quell'Elisir lo sta uccidendo! Ha perso il cervello! Senti, donna, stai spaventando i miei clienti. Levati, torna immediatamente o te la faccio vedere io. Ecco mio, Osirazza di... bastardo! Che succede? Ah, sparisce. Occhi ben aperti, gente. Qualcuno ci sta addosso. La distilleria potrebbe essere la prossima. non dovreste andare in giro a spaventare i gentiluomini, giovanotto. Non credevo che spiare fosse uso dei gentiluomini. Spiare? Signore, vi assicuro che... Occhi ben aperti! Presto! Dentro! Ci è mancato veramente un pelo. Dovete mettervi in salvo! Ben fatto, ragazzo, ben fatto! Charles Darwin, sono lieto di conoscervi. Jacob Fly, il piacere è tutto mio. Mentre voi seminavate il caos, ho trovato questo. Qui dice che un campione di ogni partita veniva mandato al manicomio di Lambeth. Chissà se è già un radio di visita. Non abbiate fretta, signor Fry. Lavorano in molti a Lambeth ed è meglio non attirare troppo l'attenzione. E allora dov'è il divertimento? Non tutti i problemi si possono risolvere facendo saltare in aria tutto. A volte è richiesta un po' di discrezione. si è fatto tardi. Vi raggiungerò al manicomio per continuare le indagini. Un'altra eccitante serata in casa per Ivi Fry. Stavo per uscire in realtà. Ho trovato il frutto dell'Eden. Ma cosa servirà a questo? A guarire? a deviare i proiettili? A controllare la gente? Sono oggetti pericolosi, Jacob, specie in mano ai temporali. Parli esattamente come il nostro padre. Magari. Lucy Thorne aspetta un carico stasera. È l'esperta di occulto di Starric. Sono quasi certa che riceverà il frutto dell'Eden di cui parlava Sir Brewster. Sembra divertente. Posso unirmi a te? Prometti di attenerti alla missione. Lo prometto. Il contenuto di quel baule vale ben più della vostra vita e di quella dei vostri figli. Avete capito? Sì, Miss Thorne. Attentila e guardia doppia su quel carro! Ora, Miss Thorne, c'è la questione delle carte per il signor Starric. Se poteste seguirmi. Molto bene, ma sbrighiamoci. ciò che stiamo cercando è in quel baule. Ci sono tiratori sui tetti. Puoi eliminarli prima che arrivi al carro? Sarà fin troppo facile. l'hai trovato? In realtà... Eccolo là! Credo sia meglio andare. Cosa hai fatto? Non c'è tempo per le domande adesso! Forza! È stato divertente! Grazie per l'invito! Dobbiamo rifarlo! Idiota! Non sarà il frutto dell'Eden, ma questo materiale è molto prezioso. Guarda! Gli assassini di Londra avevano trovato una sindone. La sindone dell'Eden è in grado di curare qualsiasi ferita. Se gli assassini l'avessero trovata, certo papà l'avrebbe saputo. Però c'è qualcosa che manca. Qualcosa che vediamo solo noi. Sembrano indicazioni. Non vuoi venire? Davvero, il lavoro sul campo non fa per me. Troviamo l'indizio di un manufatto e non vuoi seguirlo? Messa così, non posso rifiutare. Sarò nello studio. Non voglio interruzioni a meno di notizie sul taccuino scomparso. Non sarà facile entrare. Vuoi farlo lo stesso? Se è un covo dei Templari non sarà mai facile. Ma non temere, gireremo a largo da Miss Lucy. Andiamo? Che stiamo cercando? Non ne sono sicura. Non proprio discreto, vero? Certo che Enway aveva il senso dello spettacolo. La storia degli assassini a Londra. Nascondigli, cripte, una chiave. È tutto. Hai detto della musica? Lì prima non c'erano aperture. Si sta chiudendo. Sì, lo vedo anch'io. Vieni a bloccarla. Ci serve un'altra via d'uscita. vi ho già detto, signore, che non c'entrano niente con quell'articolo anonimo. È una bugia e lo sapete. Ma non ho tempo per le sciocchezze. Sciocchezze? Sono il mio nome e la mia reputazione che avete impangato, signore. il mio nome. Vai, accidenti, vai! Quello è Richard Owen, un uomo vile, indegno e abbietto. Davvero? Sembravate ottimi amici. Owen, lavora al manicomio. Lui sa chi faceva l'Elisil. Presto! Presto! Signor Fry, confido che abbiate avuto un incontro produttivo con il signor Owen. Oh, sì. Abbiamo avuto una piacevole chiacchierata. Ho scoperto che dietro all'Elisirle nativo di Starric c'è John Eliotson. Il dottor Eliotson? Non sentivo quel nome da molto tempo. Era un brillante cardiologo finché non è divenuto ossessionato dalla frenologia e dal mesmerismo. Una carriera rovinata. Bene, come procediamo? Con tutto il rispetto signor Darwin ma devo continuare da solo. Dopotutto meglio non attirare troppe attenzioni. Mi sembra molto saggio. A presto amico! Oh, signor Fry, se doveste trovare un po' di tempo libero vi prego venite da me. come avete potuto notare a volte applicando un'eccessiva pressione si va incontro a risultati inattesi. purtroppo l'organo si è rovinato. Portatemi un cadavere. Subito, dottor Eliotson. si è riposo di l'organo si è riposo si è riposo si è riposo si è riposo ecco dottore così è finita eppure penso al nuovo inizio ho un futuro migliore scaturito dal sangue dei visionari io vedo solamente il sangue di un pazzo credi davvero che uccidere un vecchio fermerà il grande architetto del mondo Crawford Starric ha piani gloriosi per l'umanità i piani possono essere cambiati sei un bambino un bambino che crede ancora di poter raddrizzare il mondo a colpi di spada non hai mai pensato alle conseguenze delle tue azioni Jacob Fry o da tuo padre non hai appreso nulla e la produzione di Elisir è cessata oltraggioso Fry intende consegnare Londra nelle mani del crimine o magari non ha nessun piano preciso e diverte solo a giocare con le nostre vite e il manicomio è chiuso l'intero settore medico della città è nel caos lui non sa non comprende le conseguenze delle sue azioni quell'uomo è un vero anarchico signori questo temi è stato portato dall'India via nave poi è giunto allo stabilimento è stato impacchettato e un carro l'ha portato a casa mia è stato messo in dispensa e poi preparato per me il tutto da uomini e donne che lavorano per me che devono a me Crawford Starrick il loro lavoro, il loro cibo e la loro stessa vita lavorano nelle mie fabbriche come pure i loro figli e voi venite a parlarmi di questo Jacob Fry un insignificante ratto che osa chiamarsi assassino voi insultate la città che lavora di giorno e di notte e che ci permette di bere questo questo prodigio, il tè ho quasi terminato le mie ricerche la nostra amata Londra non dovrà sopportare un così folle criminale ancora a lungo e che mi dite di sua sorella, Miss Fry? Miss Fry verrà eliminata molto presto delizioso scusa l'interruzione iniziato volevo dirti che Sean e Rebecca sono sfuggiti a Otsoberg Berg ha un'unità, il Team Sigma Violet da Costa e suo supporto cacciano e uccidono gli assassini da un bel pezzo per fortuna stai bene beh, sì, sai ci vuole ben più di un super soldato templare per porre fine alla storia di Sean Macho Hastings stavo parlando con Rebecca bene, a ogni modo se c'è Berg è sicuro il frutto dell'Eden è a Londra i dati di iniziato fanno pensare alla Sindone i templari sembrano volerla a tutti i costi adesso c'è qualcosa che ci sfugge però sappiamo che non si può affrontare il Team Sigma da soli ci pensero io nel frattempo teniamo un basso profilo iniziato deve trovare altri dati le ferrovie non gli bastano ora Starric possiede una compagnia di omnibus credo voglia controllare gli spostamenti degli operai per averli in pugno per Lataway e la rivale di Starric, vero? forse dovrei mettermi in affari e tu, Evie? che piani hai? ho studiato le carte recuperate da casa di Kenway sono diretta a un certo monumento ah! ah! Evie, siete voi grazie a Dio stai sperimentando, Alec? esatto hai un'aria davvero esausta nervosismo è per quei babbei che Starric continua a mandare da me mi sta offrendo delle somme scandalose Alec, non stai pensando di cambiare bandiera? mai ho ideato qualcosa nel caso diventassero insistenti serve soltanto a stordire se necessario sicuro che funzioni? non proprio ne ho prodotte tre con gradi diversi di acidità e cose del genere beh, una formula sarà quella giusta proviamola sugli sgarri di Starric, allora, vi va? a proposito di Starric trasmette ancora false informazioni potremmo distruggere i suoi trasmettitori? sono sorvegliati troppo bene le bombe aiuteranno d'accordo oh! già! quasi scordavo mettete queste ai vostri stivali e sarete immuni a praticamente tutte le scariche elettriche beh, credo miei cari Jacob ed Ivy vi devo ringraziare di nuovo per aver protetto ciò che è più caro a me e alla nostra causa la libertà di parola è una fortuna che il tuo genio sia al servizio del bene comune, Alec tuttavia credo sia meglio che tu lasci il laboratorio non serve non ora che mi avete insegnato il coraggio e poi con i miei piccoli aggeggi ho tutta la protezione che mi serve se doveste ritrovarvi ad avere un momento libero passate pure e così le tracce che hai trovato a casa Kenway portavano al monumento bel modo di impiegare il tempo seguirmi ovunque facendo domande hobby beh, dato che Harry non c'è pensavo gradissi compagnia non mi serve compagnia e Henry Green sta seguendo altre tracce da solo oh sì, caro Green è una magnifica idea oh ti prego, caro Green vieni a vedere questo libro e stammi vicino, vicino, caro Green io non... bene, forse non hai di meglio da fare ma io devo proteggere gli assassini ma davvero com'è che diceva papà? non lasciare che i sentimenti compromettano la missione esatto a ogni modo io vado se mi imbattessi in altre ricerche inutili ti avvertirò subito sarà un piacere non averti fra i piedi rispettate i nostri occhi siamo qui riuniti al monumento al grande incendio per vigilare affinché vorrei ringraziare i nostri occhi l'onorevole prima sembra familiare grazie a tutti Buongiorno Miss Fry La prendo io Vuoi la Sindone per acquisirne il potere Ma poi saprai controllarla E tu perché la vuoi tanto? Solo per impedire ai Templari di averla I soliti assassini Hanno il potere della vita eterna Eppure hanno troppa paura di usarlo Vita eterna? Pensi che la Sindone ti darà questo? Quello che penso non ti riguarda più Vieni con me? Ho altri piani Diamine Miss Attaway Sì, posso... Oh, ottimo, siete qui per uccidermi Io cosa? Non importa, tutti hanno un prezzo Vi bastano? Io non voglio uccidervi E allora che volete? Il signor Starrick e la Milner Company vi hanno ostacolato abbastanza Ho intenzione di fare affari con voi Splendido Seguitemi, dobbiamo parlarne, signor Jacob Frey Al vostro servizio Musica per le mie orecchie Malcolm Milner Il burattino di Starrick Attenti, idioti! Quel Parkinson è diretto al deposito Attaway Pensa di poter bruciare i miei omnibus Assaggerà la stessa medicina Facciamogli bere tutta la dose Userò il Parkinson di Milner contro di lui Ma mi servirà la mia panda? Siete un imprenditore nato, signor Frey Lo lascerò a voi Accidente che botto Vedo già le azioni di Milner che colano tutto Sei assunto Ho in mente grandi piani per noi due Prendete pure un appuntamento con me quando volete E vi informerò su un nostro prossimo passo Ma io non lavoro Così Miss Frey, che bella sorpresa Ciao, Clara Vorrei controllare l'hambet Dato che il manicomio chiude Cosa ti porta qui? I bambini si stanno ammalando Il solito tonico è inutile Sono qui per... Sei sicura di sentirti bene? Certo Che sì, Miss Clara C'è un medico qui Portatela dentro È solo svenuta? Sì, parlava di un qualche tonico che non funzionava Lo credo bene Da quando Allison è morto Il distretto è inondato da un tonico adulterato Mi prenderò cura di lei Ma senza le medicine giuste Tutti gli altri peggioreranno presto Cosa vi serve? Rifornimenti In quantità E in medicine Tutte le sostanze più rare sono state rubate e messe all'asta Vi aiuterò volentieri Ecco la lista Miss... Frey Evie Frey Miss Nightingale Piacere Sbrigatevi Non rimane molto tempo Siete qua E' appena in tempo Avete trovato la medicina che ho chiesto? Come sta? Si riprenderà Babylon I bambini Ora potremo distribuire la medicina vera È una soluzione definitiva Chiederò di stabilire un regolamento quanto prima Lambert vi deve molto Ci vorrà tempo per cambiare le cose Ma io non ho fretta, Miss Frey Signor Frey Non avete preso un appuntamento? Avevo un buco libero Ammetto che mi piacete Motore a combustione interna? Undici sillabe che significano un mucchio di soldi I motori arriveranno a Milner via treno Portateli a me E per lui Sarà la fine Mi servirà un secondo treno per farlo Ma forse ho l'uomo giusto Siamo d'accordo, signor Frey? Ammetto che mi piacete Miss Hathaway Allora cosa vuoi, Frey? Perché pensi che voglia qualcosa? Forse ti ho salvato solo perché ho il cuore tenero Dai, ho un lavoro per le mani Milner ha un grosso carico lì Tu stai pronto a trasferirlo? Fagli il culo! Un motore a combustione interna La fine dell'era del cavallo È come guardare il futuro E quale pensi che sia il prezzo di questo futuro, amico? Ah, non li venderemo Li porterai al tuo contatto? Verrai pagato lo stesso Chi è questa Pearl, comunque? Da quanto lavori con lei? È una socia in affari Non posso dirti altro Jacob, caro Unitevi a me Ha una lunga e duratura alleanza E hai nuovi motori che sono in mio possesso Passiamo agli affari Milner ora è al Tamigi a proteggere i suoi traghetti Non ha che quello Li proteggerà con la vita, allora Esattamente quello che mi auguro Uccidetelo per me Avete bevuto parecchio champagne, vero? Il successo in ebria più dell'alcol, signor Fry Allora tenete bene un bicchiere da parte Nero più che certo Il signor Starric era furioso per i motori Questa è la mia punizione Mi manda per Lathaway, non Starric Lavorano di nuovo insieme Non dovevo mettermi tra Starric e Miss Attaway Il sangue del resto non è acqua Che significa? Sono parenti Stai tranquillo, cugino Riavrai i tuoi motori E gli omnibus motorizzati ci porteranno un mucchio di soldi Organizzerò il trasporto dei motori per riportarli alla mia fabbrica Tu andrai alla stazione di Waterloo Perché non voglio nessun problema Certamente Che il padre della comprensione ci guidi Oggi è nelle nostre imprese future, cugina Stazione di Waterloo Signore e signori Arriveremo alla Central Station Molto presto La central station è chiusa Ordini di Hathaway È solo un danno minore, signora L'ultimo vagone è ben protetto Che peccato Che peccato Le buone alleanze sono merce rara E a quanto pare la nostra è già terminata Sono affari, signor Fry Si fa ciò che serve per salire in alto Crawford non prenderà bene il mio assassino Sa essere... Sgradevole quando vuole Io ho sacrificato così tanto Non perderò i miei omnibus L'ultimo vagone ci serviva Non perdono ci serviva Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Io ucciderò il suo caro fratello quando proverà a salvarla Suppongo che vada fatto Non voglio rischi Servono più templari per tutta Londra Noi proteggiamo la città della luce Sì, Crawford E poi entreremo nella cripta E insieme fugheremo le ombre con la luce Cosa abbiamo qui? Boiler, questo signor Dredge sarà la fine per tutti noi Oggi si aggirava per la borsa facendo un po' troppe domande sulla banca Se dovesse scoprire il piano, ti accadrà di peggio che perdere il lavoro Firmato, Plutus Così Plutus è il banchiere di Starric Dunque Dredge mi porterà da lui Mentre sei in giro, evita di distruggere la medicina moderna o la rete di trasporti di Londra Ah, non farmi ridere Ci sono vite in gioco Che dipendono da questa città Non ho lasciato io Si torna libera Un errore a cui intendo rimediare subito A che serve una chiave se non sai che cosa apre? Suppongo Miss Thorne stia pensando lo stesso Henry! Green, guarda qui È dello scrigno di proprietà della regina È nella Torre di Londra È una fortezza Per caso non hai un amico lì? Una guardia Può cercarla una volta dentro Tornerò quando avrò la Sindone, grazie dell'aiuto Bene, sì Auguri Evie La chiave aprirà lo scrigno della Sindone Trovatelo e portatemelo Non siete delle guardie reali In quanti siete là? Parla! Per fortuna siete qui Quella Thorne ha messo templari ovunque vestiti da guardie Potrei anche spacciarmi per una di loro e farvi entrare Però le guardie qui fuori mi conoscono già Prima dovreste eliminarle Vi aspetto alla White Tower quando potrete I uomini sono sistemati E ora? Miss Thorne mi vuole morta Se mi vedrà in catene Abbasserà la guardia Saprete essere convincente? Volete fingervi mia prigioniera? Ci proverò, signora Ho preso l'assassina Aprite la porta Dite a Miss Thorne che porto l'assassina L'ho vista girarsi dentro le mura, signora Pensavo che voleste parlarle Salve, Miss Prye Ora mi dirai dove si trova la Sindone? Come vuoi La troverò anche senza di te E la userò per strangolarti Tienila d'occhio Così sei riuscita a uccidermi alla fine Ma a che cosa ti servirà? La Sindone non è qui Non la volevi per curare ma per ampliare il tuo potere Non il mio Il nostro Siete così di corte vedute Voi assassini non usereste mai quel potere Mentre noi Mentre noi miglioreremmo la vita dell'uomo Spero che non troverai la Sindone Non hai nessuna idea di ciò che può fare Dimmelo No Scrivete tutto E poi sigillate finché non darò altri ordini Miss Thorn Grazie a voi garantirò il futuro di Londra La città vi è grata L'ordine vi è grato E anch'io Ma la Sindone Apparterrà a uno solo Pertanto interrompo quest'alleanza Vi prometto una lauta rendita vitalizia Non posso fare di più Il padre della comprensione vi guidi Sì? Cosa c'è? Miss Thorn Che cosa? Mi spiace signore È morta E la chiave? Dov'è la chiave? Non c'era nessuna chiave sul cadavere La Sindone sarà mia Dovessi pure scatenare l'inferno per averla Bruciate la lettera Sangue sugli omnibus! Ne prendo uno A voi Signore Io dico basta con questa generosità verso gli stranieri E pensiamo ai veri bisogni di Londra Una guida sicura Che si impegna a condurci tutti al successo Funziona sempre nelle aziende Così va il mondo Tu feccia Trovati un lavoro Le migliori guardie sul mercato Il signor Dredge è proprio nei guai Jacob Sono io il sergente Aberline Freddy Frederick Sotto copertura Ci sarà una rapina alla banca d'Inghilterra Ne sono certo Rapina? È una fortezza Sì, i ragazzi in centrale credevano scherzassi Ma non sarà divertente per i correntisti Chi c'è dietro? È confidenziale Oh, forza Freddy Ti aiuterò Immagina i titoli Ladri colti sul fatto Aberline aveva ragione dall'inizio Beh Forse posso darti un indizio Ogni trimestre Rapinano una filiale della banca Mai la stessa I ladri vengono riforniti dai Mercanti di Cocam Grazie della dritta, Freddy È Frederick! E... Sappi che ti tengo gli occhi addosso Se sapessi che carico era Potrei collegare le armi al proprietario Ottima idea, Freddy Ah, vero Le armi sono qui Faremo come al solito Il signor Tupenni apre il cavo Rubiamo e lasciamo i soldi al suo magazzino Muoversi! Ci aspettano! Alla banca d'Inghilterra! Beh, novità? Sì, ma non ti piaceranno Come puoi vedere Tutti noi della famiglia Aberline Abbiamo una robusta costituzione E tu penni a rapinare la banca? Il governatore della banca? Ora ho bisogno di sedermi Adesso non c'è tempo Quel bastardo sarà già nel cavo Come entrerai? Non voglio saperlo Certamente Ma tu sai dirmi come posso entrare lì dentro? La banca è progettata per proteggere le riserve aure e inglesi È una fortezza tenuta sotto chiave C'è un direttore Solo lui Ha libero accesso al cavo Lo troverai Vicino all'entrata Ah, sì C'è un uomo Che sorveglia senza sosta la porta del cavo Pronto come un falco Se ti vede La bloccherà subito Il capo delle guardie Gus Howard Conosce bene Tupenni Sarà coinvolto Questo è certo Caro Fry Ti prego Un po' di discrezione Il solo modo di incastrare Tupenni È coglierlo sul fatto Non voglio che tu prenda rischi E non voglio sorprese Questa è la banca d'Inghilterra Se ti trovassi nei guai Sarò nell'atrio Camuffato Continua Ci s'intén La banca d'Inghilterra Che è Questa è la banca d'Inghilterra No, no, no. Hai rubato il tuo ultimo scellino al popolo di Londra. Quelle bestie sprecano i risparmi. Noi li sappiamo investire. Niente verrà mai costruito o migliorato. Assolutamente niente sorgerà dal fango senza noi a guidare, a plasmare il futuro. Ne beneficeranno anche loro. La città è loro, non vostra. Senza gli investimenti non ci sarebbe nessuna città. Per pagare Caronte. C'è stato un omicidio! Grazie a Dio! La polizia, siamo salvi! Arrestateli! Per aver osato derubare la gente di Londra! La banca d'Inghilterra è chiusa, fino a nuovo ordine! La nostra valuta è derisa! L'inflazione galoppa! Tupenni è stato ucciso! E il Parlamento non fa nulla! L'atto non passerà, signore. Quel buffone di Disraeli è condannato. Ve lo assicuro sul mio onore. Il vostro onore conta poco. Come osate, signore? La gente di questa città ha sofferto troppo. Oggi ho dato un aumento ai miei operai per contrastare l'inflazione. Cosa? Rifornirei l'intera Londra, se potessi. Intanto voi, sedete al club a filosofare di conti e di promesse che il vostro onore non può pagare. La vostra borsa, invece. Mi chiedo quanto pagherebbero per occultare la vostra storia. Almeno quanto Disraeli offrirebbe per le vostre palle, suppongo. Ma siamo logici. Perché dovrei limitarmi a uno o l'altro, quando posso avere tutto? Che ne dite? Dovrei riscuotere. Basta, Indugi. Il Parlamento deve tornare a governare. Di nuovo. Intesi? Conoscete la strada. Caro signor Starric, uomini pronti. Agiamo domani. La morte di Disraeli fermerà il Corrupt Practices Act. Gladstone sarà più malleabile. Che il padre, eccetera, eccetera... Così Starric ha interessi in politica, eh? Devo entrare nel Sinopian Club e scoprire chi è B. Si cauto con i parlamentari. Io lo sono sempre. La tua irruenza alla Banca d'Inghilterra ha fatto quasi crollare la Sterling. Quasi è la parola giusta. A questo riguardo, che ne è della chiave che non apre quasi nulla? Henry la sta esaminando. Credo che la cripta sia nostra. Quasi nostra, Evie. Quasi. Dicono che i miei soldi sono falsi! Che vergogna! Cos'è successo? Tuo fratello! Cos'ha fatto stavolta? I giornali parlano solo della morte di Tupenny. E se non bastasse, qualcuno ha anche rubato le matrici delle banconote. Pensi sia opera di Jacob? Ne dubito. Ora, nessuno si fida della banca o della valuta inglese. Ci sarà l'inflazione! Rivolte! Le industrie andranno in America per risparmiare. In breve, l'Inghilterra è finita. Jacob, l'hai fatta proprio grossa. E se io riportassi le matrici alla banca? Beh, questo aiuterebbe. E poi metterebbe in discussione le storie sull'omicidio di Tupenny. E ritornerebbe la fiducia nell'economia. Allora è deciso. L'Inghilterra non crollerà. E se non ti dispiace, potresti distruggere le banconote false che vedi per non farle circolare? Ma certo. Bene. La stampa di Londra scrive che si è trattato di uno scherzo. Basta rivolte. La fiducia nella banca è tornata. Finalmente passerò una notte tranquilla. Evy, cara. Non so come ringraziarti. Abbiamo evitato la catastrofe, sergente. È Jacob che dovrebbe ringraziarmi. Va bene, B. Chi sei e cosa hai in mente? Oddio! B, suppongo. È un piacere conoscervi. B. B! Mi chiamo Herbert! Allora perché seguivate il primo ministro? Per lavoro, signore! Un tizio mi ha pagato per... Brutta bastarda. Per la miseria! Da dove arrivi? Beh, sono di Crowley, se lo vuoi sapere. Tu perché lavori? Non so il nome. Un vecchio! Barbuto, indossavo un uniforme! Ussari, forse. Qual è il piano? Pietà! Mi ucciderà! Un volo dal terzo piano ti lascerà storpia e buona per l'ospizio. Invece da lui puoi scappare. Domani! Attaccheremo la carrazza del primo ministro mentre vai in Parlamento! Perfetto. Accidenti, che lusso. Devo trovare un modo per entrare. Che cosa significa? Che diavolo siete? Primo ministro, sono la sua guardia del corpo. Jacob Fry. Non sapevo di una nuova guardia del corpo. Chi è il tuo comandante? Lascia parlare il ragazzo, Dizzy. Signora, mi scuso, ma c'è una minaccia alla vostra vita. E la polizia ha deciso di agire in fretta. Minaccia? Quale tipo di minaccia? Questa, signora. Scusate solo un momento. Insomma, ma che cosa sta... Non così in fretta, eccellenza. Maledetto Gladstone! Quel dannato! Pagherà per questo! Grazie. Cosa intendete fare con Gladstone, ragazzo mio? Vi assicuro, signora, che Gladstone non c'entra. Ma ha provato a uccidere mio marito? Beh, indagherò su Gladstone. Ma forse potete aiutarmi voi, signora. Cerco un uomo vicino al Parlamento. Vecchio, uniforme da cavalleria e grossi baffi. Sembrate un tipo rude e pronto all'azione, signor Frye. Beh, sì, lo sono, è vero. E conoscete i quartieri più poveri della nostra città? Certamente. Magnifico! Si dà il caso che io voglia visitare il Devil's Acre. Se voi mi scortaste, poi sarei felice di aiutarvi nelle indagini. Sembra una fantastica idea. Allora è deciso. Venite pure a Downing Street domani sera alle otto precise. Buona giornata, signor Frye. Ma io... Buona giornata, signor Frye. Scusa, ricordami dove siamo diretti? C'era una lettera del Principe Consorte tra le carte di Lucy Torna, con lo stesso simbolo della chiave, data 1847. Del 47? È l'anno in cui il Principe ha restaurato Buckingham Palace. E ha aggiunto la cripta. E dato che in nessuna mappa del palazzo è segnalata una cripta segreta... Altezza, vi presento Miss Evie Frye. Miss Frye, il Marajah Dulipsing. Piacere, Altezza. Amico mio, temo che i progetti siano stati rimossi. Rimossi? Da chi? Crawford Starrick. O da qualcuno dei suoi. Sì, intuivo che conosceste quel nome. So dove li ha messi, ma ci sono le guardie. Questo non sarà un problema. Lo immaginavo. Ci servirà un piano. Potrei distrarre le guardie finché tu non sarai all'interno. Oh, davvero? Per te, Evie. Questo è d'altro. Bene. Una volta dentro cercherò qualcuno che sappia dove sono i progetti. E poi ci vedremo sul treno. Sta' attento. Fatti vedere da Miss Nightingale. Andrò alla cripta prima che trovino la Sindone. Parleremo con il Marajah. Parlerò con il Marajah. Tu ora devi farti medicare. Mi spiace averti scombinato i piani. Sarai assicuro sul treno. Anche se trovi la cripta non puoi entrare a Buckingham Palace da sola. Non sarò sola. Ci rivediamo sul treno, Grimm. Signora. Signor Fry. Pronta per il giro? Devil Shaker si animerà tra poco. Ho paura di dover annullare il nostro impegno. Il prato pullula dei giornalisti sempre a caccia di nuovi scandali. E non posso certo mostrarmi in compagnia di un uomo così. Penso io a loro. Voi venite quando è libero. Sì, sì. Farrete piano. Non è vero? La stampa è notorialmente sensibile verso ogni violenza sui giornalisti. Mi limiterò a un buffetto sulla testa. Sshh, Desmond. Così, questa è una pinta, giusto? Notevole. Bel cannetto. Desmond! Bravo, Desmond. Dammi la belva. Cambierà la musica quando io e i miei ti troveremo. E adesso, Desmond, torniamo dalla tua padrona, che ho lasciato tutta sola in un poco raccomandabile pub di Londra. Beh, se non avete mai detto a vostro padre che cosa provate per lui, come potrei mai saperlo? Non l'avevo mai vista così. Forse in realtà vogliamo solo essere amati. Esattamente. Ecco, un dolcetto. Oh, Desmond! E il signor Frye! Vorrei presentarvi o... Scusate, com'è che vi chiamate? Johnny il Bruto. Piacere. Penso sia ora di tornare a casa. È così, signor Frye. Vieni qui, Desmond. Bene, bene. C'è qui il difensore dei cani. Ne... Ne evitiamo di fare sciocchezze. Ci siamo, signora. Ci siamo. Siete un gentiluomo. Grazie. Grazie per la splendida serata, signor Frye. Parlerò gran bene di voi al mio Desi. Oh, sì. Perché oggi ci vuole una parola chiave per vedere Lord Cardigan? Calma. Ce l'ho in tasca. Cardigan ha esagerato questa volta. Ora chiamerò Scotland Yard io stesso. Andiamo, signore. Credevo fossimo tutti uniti nell'opporci a questa legge. Parola chiave? Balaclava. Prego. Ebbene, ora parliamone da... Buon Dio. Chi diamine... Oh, silenzio. Codardo. Ingrato! Ahimè, l'eroe di Balaclava non perirà sul glorioso suolo di Crimea, ma per mano di uno sporco assassino nelle stanze del potere. Avete finito? Fatti avanti, canaglia. Tu hai ottenuto quello che né i russi né gli indiani sono riusciti a ottenere. Ecco il trofeo. E che possa avvelenarti. Sì, ditemi ancora di Balaclava. Addio. Addio, cara Inghilterra. E il tuo cuore piangerà per sempre il duca di Cardigan che muore. Dio salvi la regina. E l'undicesimo Ussari. Che imbecille. Tutto bene? A parte la squadra che ci sta addosso? Rinforzi in arrivo. Perché state rischiando tanto? Non dovete affrontare i Templari. Avevo un collega, il figlio del capo. Non mi piaceva molto all'inizio. Tutti lo trattavano come se fosse dannatamente speciale. Per me era solamente il classico tipo che non si lasciava toccare da niente. Ma mi sbagliavo su di lui. È diventato mio amico. E ha affrontato l'inferno. Alla fine ha salvato tutti noi. E per questo non posso rimediare, lo so. Però posso seguire il suo esempio. Sei un bravo assassino. Santo cielo! Ciao. Ma quanto tempo. Calina! Non ci vediamo da quella volta della bomba alla base di Parigi. Da, esplosioni ovunque. Tu urlavi come un bambino. Vescovo dice che Ozoberg è qui. Lo ucciderò per te. Ottimo. Ora, se non ti pesa stare di guardia, proverai a stendermi un momento. Riposa. Ci aspetta una guerra. Sean e Rebecca sono al sicuro ora, ma contiamo ancora su di te per trovare la Sindone. Una lettera. Per me. Un invito a cena. E con chi cenerai questa sera? Maxwell Roth. Il capo dei Blighters. Non ci andrai. Certo che no. Sono qui per il signor Roth. Armi? No, grazie. Ho già le mie. Vi aspettano sul palco, signore. Di qua. Ah, il nostro ospite è arrivato. Su, sedete. Vi sto tenendo d'occhio ormai da un pezzo. E trovo il vostro eroismo nello sfidare il grande Crawford Starric. Direi magnifico. Ho rubato i vostri uomini migliori uno dopo l'altro. Non siete arrabbiati. Al contrario. È questo il sale della vita. Ma il signor Starric è un'altra storia. Mi impartisce ordini. È terribilmente noioso. Perché non collaboriamo per eliminarlo? Non sono molto sicuro. Amico, se io non riuscirò a fornirvi un'occasione per colpire Starric al cuore, allora potrete attaccare il teatro e uccidermi voi stesso. E voi cosa ne ricavate? L'occasione di divertirmi con l'uomo più scaltro di Londra. Va bene, ci sto. Io, la carrozza! Si va? Saresti così gentile da aumentare un po' la potenza? Splendido! Starric sarà rovinato in un batter d'occhio. Tanto di cappello, ragazzo. Scusate ora, ma devo andare. Tornate a trovarmi. È stupendo, non è vero? Ho pianificato la nostra prossima impresa. Davvero? Dovremmo fare un prelievo. Tre degli uomini di Starric stanno per scomparire. Siete il diavolo. E verrò anch'io stavolta. Non ha senso cedervi tutta la gloria. In carrozza adesso! Lewis! Ottimo lavoro. Venite a trovarmi alla Alhambra. Ho in serbo altri divertimenti per noi. Di qua, amico mio. Ho qualcosa da mostrarvi. È tutto pronto. Perfetto! È ora di passare all'azione. State indietro! Pronti? Aspetta! Aspetta cosa? Ci sono dei bambini. Jacko, mio caro. Starric sfrutta i poveri bambini in tutte le sue fabbriche. E noi dobbiamo arrestare la produzione. Non così. Perché no? Io faccio tutto ciò che mi pare piace. Presto capirete cosa significa essere liberi come me. Accendete, gente! No! Che diavolo state facendo? Non stiamo più giocando, Roth! No. Non più. Non più. Tutti fuori, in fretta! Correte via! Un dono per voi, dal signor Roth. Dovete sapere, signor Fry, che quando il signor Roth si arrabbia, ne fanno sempre le spese in molti. Mio caro Jacob, ahimè, le nostre avventure insieme sono giunte alla fine. Anche se non sono durate a lungo, hanno lasciato un segno indelebile. Vi auguro fortuna per i vostri futuri affari. Cordialmente, Maxwell. Post scriptum. Darò uno spettacolo stasera. Tutta Londra ci sarà. In allegato, troverete il vostro invito. Maschere di qui! Di qui! Per l'alambra! Santa miseria. Rotta! Tutti pronti? Allora andiamo. Scena due! Pronti! Liberatemi! Chi abbassa la grata per lo show! Spero che vi sia piaciuta questa serata, signore e signori. A me è piaciuta, ma prima del gran finale, facciamo un brindisi a tutti gli impavidi che sono qui oggi a celebrare la vita e la morte. Bene! Bruciatele! A voi la mossa, Jacob mio caro! Bruciate! 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 Che serata! Degna delle leggende! Perché mi hai fatto? Perché? Cosa? Spezzare il collo a un corvo con le mie stesse dita? Fare a pezzi quelli che tu chiami innocenti? Mantenere il mondo nel suo stato di divina follia! C'è una sola ragione per cui agisco. Perché no? L'ordine ha generato il caos. La marea sale inondando i pub e spegnendo i lampioni. La città morirà. Tu, Penny, ha fallito. Lucy, ha fallito. Brudnell, Eliudson. Perr. Se ne sono andati tutti. Adesso sta a me. Gli assassini hanno portato la furia nelle nostre case. Gli uomini diventano mostri. Si ribellano. Mordono. La civiltà deve sopravvivere al massacro. Per non ritornare al Medioevo. E comincerò da capo. Londra rinascerà. Il frutto dell'Eden è sotto Buckingham Palace. Ora lo sappiamo. Pianificheremo un'azione. Calma. Ci serve una conferma visiva. Prima di muoverci, dobbiamo essere sicuri. Abbiamo una sola occasione, prima che piombi lì Ozzo Berg. Sono d'accordo con Sean. Ci apposteremo vicino al palazzo. Ma aspetteremo la sincronizzazione dei dati per iniziare. Ora tocca a te, iniziato. Dov'eri? Starric si è già mosso. Il frutto dell'Eden è a Buckingham Palace. Che lo prenda. Ho visto cosa hai combinato in città. Forse dovresti fidarti del mio giudizio. Ho ucciso gli sgarri di Starric. E tu che cosa hai fatto? Chiediamo a Harry che ne dici? Io ho rimediato a tutti i tuoi errori. Chi ha troppa fretta non ottiene nulla. Non provare a citare papà. È di Platone. Il punto è che a te importa solo distruggere tutto. Papà aveva ragione a non approvare i tuoi metodi. Papà è morto! Basta! Ho appena ricevuto una notizia. Al ballo a palazzo, Starric ruberà il frutto dell'Eden. E ucciderai i vertici di chiesa e stato. Di nuovo come ai bei tempi? E poi la finiamo qui. D'accordo. Qual è il piano? Ma che inaspettato piacere potervi vedere di nuovo! Che cosa... Si dice nelle strade. Signora d'Israeli, abbiamo scoperto che qualcuno all'interno di Buckingham Palace ha intenzione di... Quello che mia sorella intende dire è che vorremmo partecipare al ballo stasera. Ma è impossibile. Se anche ci fossero degli inviti rimasti, e non ce ne sono, qualcuno della vostra estrazione sociale... Se quel dannato Gladstone parteciperà al ballo, cederò il mio invito! Perfetto. Allora andrò da solo. Signora d'Israeli, se poteste spiegare a mio fratello dove si trova la casa dei Gladstone, forse potrebbe usare le sue doti per procurarsi i loro inviti. Che spasso! L'hai sentita, Daisy? Sgraffigneremo gli inviti dei Gladstone! Grazie per avermi offerto come volontario, sorella. Oh, di niente! Caro fratello. Ora, signora d'Israeli, scusatemi, ma devo vedere il Marajah, perché penso potrebbe avere i progetti di riserva di una certa cripta. Che splendida carrozza! Dove l'avete comprata, se posso chiederlo? Chiedi pure, Freddy, ma non otterrai risposta. Accidenti! Sono le sopracciglia? Sì. E la faccia, la voce e tutto. Senti, ho un invito per il ballo reale di stasera. Come ci sei riuscito? Freddy, ci sarà un attacco, quindi devo portare all'interno le mie armi per prevenirlo. Supponiamo che io ti creda. Lì solo la guardia reale è armata. Quindi? Troppo facile. Per la miseria, Freddy. Va bene. Mi servirà un uniforme da guardia. Sicuro? Contavo su di te. Però promettimi, Jacob, che poi renderai a Gladstone la sua carrozza. Ma certo. Un uniforme, proprio come volevi. È ancora calda. È un regalo. Ti aspetterò sul tetto di Buckingham Palace. Come sei romantico. Che piacere rivedervi, Miss Fry. Vostra altezza, i progetti dei restauri di Buckingham Palace sono perduti. Allora dovrete accontentarvi delle copie. Esistono copie? Dove? Non così in fretta. Prima ho una faccenda un po' più urgente. E il mio piano richiederebbe furtività e abilità, qualità che voi possedete. Il tempo è tiranno, altezza. Allora sbrigatevi, mia cara. Purtroppo i parlamentari più influenti sono ben oltre la mia portata. Ma queste persone hanno ordinato una carrozza per il ballo di stasera. Voi procuratemi una carrozza e noi porteremo i politici a destinazione. Per strada parlerò con loro e, alla fine, vi dirò dove sono i progetti. Siete un abile negoziatore? Uno deve esserlo per forza, quando conta così poco. Grazie, Miss Fry, per avermi aiutato. Oh, di niente. Spero avrete successo, nonostante il signor Gladstone. Chi ha un grande cuore finisce sempre per soffrire. Come vostro padre, ad esempio. A quanto ne so, era un uomo estremamente triste. Distrutto dopo la morte di vostra madre. Quel tipo di dolore può accecarci, portarci a mentire per proteggere chi amiamo. È ora che voi restituate la carrozza e prendiate i progetti. Sono dentro Buckingham Palace. La regina li tiene fra le sue carte private, nel salotto bianco. Buona serata, Miss Evie Fry. Anche a voi, Altezza. Ma guarda tu che lusso. Miss Fry? Affidagli le armi. Qui sono vietate. Sei stupenda, Catherine. Non potrei amare il suo padre. Ne sono convinta, William. Signore, signora, i vostri inviti. Emo di aver perso l'invito. Entrate pure, signori. Sentite. Presto diventerò primo ministro. Che cosa ci fa qui la mia carrozza? Hai sentito qualcosa? No. Erano le voci nella tua testa. Ti dirò. Sono molto più piacevoli della tua. Che galante! N'è vero? I progetti sono nel salotto bianco. Oh, eccovi qui. C'è una persona che voglio proprio farvi conoscere. Tu, ora seguitemi. Vostra maestà. Lasciate che vi presenti Miss Evie Fry. Siete voi l'ideatrice del disguido del signor Gladstone. È così? Vostra maestà, mi scuso per... La torta oggi è veramente una delizia. Divertitevi al ballo. Devo proprio andare ora. Miss Fry. Mi concedete questo ballo? Signor Starric. È stato bello, ma il gioco è finito. Ascoltate. Un, due, tre. Un, due, tre. Il tempo è un toccasana, Miss Fry. Cura qualunque ferita. Possiamo sbagliare un passo mentre balliamo, ma la musica finisce e poi ricomincia. Il punto è che la gente dimentica e poi ripete gli stessi errori giorno dopo giorno. La gente può imparare. Davvero? Non vedete che tutti ripetono gli stessi passi? Se un uomo ricordasse la musica e ne conoscesse il tempo, allora potrebbe davvero cambiare le cose. Adesso basta con... Questo ballo sta per finire. Presto il mondo dimenticherà la gente che è qui in questo momento. E la rovina che avete portato su Londra. Al termine della musica, Miss Fry, il vostro tempo finirà e il mio inizierà. La. Bene. Uccido gli impostori e libero gli altri. Il segreto è che... bisogna iniziare con il piede giusto. Oddio! Va tutto bene, mia cara? Posso forse aiutarvi? Detesto i balli. Ecco, la cassaforte è lì, vai! Tutto qui, niente piani. Non c'è tempo. Ti raggiungo appena mi levo quest'armatura. Ma... Ma cosa fate? Vi sfrutto! Ve l'avevo detto, ragazzo. Ma voi non mi ascoltate. Requiescati in pace. Signor Starric! Dovevate riportarmi a casa! Lasciate che rimedi al mio errore. Andate via dalla mia città! Evi! Evi! È giunto! Al termine! È appena iniziato! Harry! Jacob! Libby! Ora! Adesso! Insieme! Londra morirà senza di me! Adesso state esagerando. Io volevo farne un paradiso. La città è del popolo. Voi siete solo un uomo. Ma sono il capo dell'ordine! Lo eravate, signor Starric. Lo eravate. Non lavoreremo più in coppia. Meglio così, vero? Mi indosserai la Sindone e governerai Londra. Ciò che dà lo toglie a qualcun altro. E invecchieresti senza di me. Somiglieresti a papà. Preferirei morire. Tu la indosserai? Ora che hai rimediato a tutto. Al caos che ho combinato. Non potrei competere. Jacob Frey che rinuncia. Chi ti ricatta? George? Non oserebbe. Mi sei mancata. Anche tu. Non possiamo ricominciare da capo? Non chiedo di meglio. Inizio a credere che papà non avesse sempre ragione. Harry! C'è tutto un mondo là fuori. Con Londra al centro. Forse non è al centro. Ho corso come un pazzo. Tranquilli. Io tornerò sul treno. Non ho... Non ho rovinato tutto. Al contrario, Harry. Da oggi agirai sul campo. Con me. Una carrozza! Bell'idea, Freddy. Signora Aberlein, prego. Vostra Maestà! Miss Frey! Vi conoscete già? Non te l'ho detto? Il signor Aberlein afferma che voi tre mi avete salvato la vita. È tutto vero? Lo è. Vostra Maestà. Evie Frey, venite. E voi? Mio fratello, Maestà. Jacob Frey. E questo è il signor Henry Green. Signor Frey. Signor Green. In ginocchio. Alzatevi. Alzatevi. Ora siete tutti membri dell'Ordine della Giarrettiera. Grazie, vostra Maestà. Se siete leali, come dice il signor Aberlein, forse ci rivedremo. Il sergente Aberlein esagera sempre, vostra Maestà. Conto su di voi. Miss Frey? Maestà? Se ne volete un po', vi ho tenuto la torta. Papà sarebbe orgoglioso. Dama Evie Frey. Sir Jacob Frey. Gara fino al treno? Ci sto. Ci siamo. È sotto il palazzo. È ora di andare. Sì. Portate subito la sindone al dottor Grammatica. Il Team Sigma è già qui. Troppo tardi. Cosa facciamo? Uccidere è di certo la scelta meno sensata in assoluto. Li uccidiamo. Li vedo. Coprimi. Quel piccolo pezzo di merda voleva uccidermi, Berg. Voglio che soffra, è chiaro? Cosa facciamo? Stai ferma, cazzo! Conta solo l'ammissione! Intesi! Galina, andiamo via! Forza! Proteggetela! Proteggetela! Sparate a vista! Andiamo via! Ora! Ho capito. la sindone. Dimentica la sindone! Stai con me, Becky! Ti prego! Andiamo. Bel lavoro iniziato. Presto, prenderemo la sindone. Ah, abbiamo preso dei dati dal PC di Isabel prima che ci scoprissero. Te li mando. Te li mando. Mi dispiace. La sindone servirà a creare un nuovo clone? Oh, no. Se si avvolge un corpo nella sindone, questa ne valuta i danni e poi ripara le sue cellule. Non si tratta di un clone, ma di creare un precursore da zero. Bingo! Il progetto Phoenix progredirà più veloce adesso. Chiamerò Alan Ricken per dargli la notizia. Sembra Natale! Ehi, sono io. Ho qui la sindone, ma... Ho paura... Non aver paura. Sei stata brava. Non ho paura di te, ho paura per te. Se qualcuno scoprisse che fai... Hai fatto la tua parte, mia servitrice. Io ti salverò. Io salverò tutti voi. Non ho paura di te, ho paura di te, ho paura di te, ho paura di te. Ho paura di te, ho paura di te. Ho paura di te. Grazie.